ciao a tutti questa è una bottiglia di est 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 vino del mio territorio vinificata sfumante voi direte che c'entra di fatto poco oltre che è un buon prodotto ma non è per fare la pubblicità è per parlare di quello che posso fare dopo avere bevuto il contenuto insieme agli amici con la bottiglia con la bottiglia vuota la via normale serve quella di metterla nella nel secchione del vetro giustamente però ci possiamo fare qualcosina di simpatico con degli oggetti recuperati un led preso da una vecchia lampada frontale che aveva le batterie rotte dei dischi di legno il cavo di un vecchio alimentatore usb o anche per esempio il cavo di un vecchio mouse per esempio l'alimentazione la si fa con questo la si può collegare al computer e l'effetto è carino la bottiglia vedremo poi come la si fa tolte le bichette di fatto con dell'alluminio adesivo la gabbia la via dentro del tappo dentro acqua saponata che farà un bell'effetto qui ho un power bank con questo per esempio si può metterlo anche a centro tavola per fare un bell'effetto ecco qua si potrebbe anche aggiungere del glitter dentro ecco qua in impressione una sera a cena con amici ha fatto da centro tavola ora adesso andiamo a vedere come la costruzione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.